Il sacrificio di Giacomo Matteotti costituisce un momento fondativo dell'identità dell'Italia repubblicana. La tragedia consumata il 10 giugno 1924, quando Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, si recava in Parlamento, non fu solo una tragedia personale e familiare, ma fu la tragedia del popolo italiano che di lì a poco sarebbe stato trascinato sotto la dittatura fascista. Ma fu anche l'inizio di una catarsi, così come bene esplicò Filippo Turati nella commemorazione solenne pronunciata di lì dopo qualche giorno a Montecitorio di fronte alle opposizioni. L'inizio di un rinnovamento nazionale all'insegna della lotta per la libertà e per la giustizia sociale. Questo stesso concetto del resto lo si trova anche nel discorso pronunciato il 4 marzo 1947 da Calamandrei che inneggiava alla Costituzione come eredità del sogno dei martiri per la libertà e invitava anche la classe politica a non allontanarsi da quel sogno e questo, secondo lui, era possibile soltanto con leggi oneste, chiare e stabile. E così effettivamente nell'Italia repubblicana il mito dell'antifascismo, inteso non come una battaglia di parte ma come un bene comune, costituisce un punto necessario da ricordare alle nuove generazioni e alla comunità tutta al pari dell'inno nazionale della bandiera della fascia tricolore. Per la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati che custodisce le carte e la biblioteca di Giacomo Matteotti c'è anche un impegno, uno stimolo a tramandare lo studio e la memoria del passato che è ammonitrice ma anche educatrice soprattutto a beneficio delle nuove generazioni. E ricordando Matteotti anche perché Matteotti insegnò, fu un interprete, testimone forse irraggiungibile di una concezione, di una pratica, della politica che era estremamente animata da un forte ideale, da un'etica indiscussa, ma che amava cimentarsi nel confronto duro con i fatti, con la documentazione che è una scuola fondamentale per una classe dirigente. Quindi è una testimonianza, quella che Matteotti ci ha mandato, di alta politica, una scuola di alta politica che ha oggi una particolare attualità.